Il gruppo consigliare regionale del Partito Democratico ha ratificato le dimissioni del capogruppo Nicola Irto e designata all'unanimità Domenico Bevacqua come suo successore. Una scelta, si piega un comunicato, che Irto aveva già annunciato al momento della sua elezione a segretario regionale per dedicarsi a tempo pieno alla riorganizzazione del Partito in Calabria. C'è la necessità, ha detto il segretario, di un impegno totale sia in segreteria regionale che alla presidenza del gruppo consigliare. Per questo mi sono dimesso da quest'ultimo ruolo, affidandolo insieme ai colleghi consiglieri a Domenico Bevacqua che già nella scorsa legislatura aveva guidato il gruppo regionale. La rigenerazione del Partito Democratico della Calabria è l'obiettivo che mi sono dato candidandomi alla segreteria. Mi dedicherò con molta attenzione al suo raggiungimento. Ringrazio Nicola Irto per la sua indicazione e i colleghi Iacucci e Alecci Mammoliti per averla condivisa e sostenuta. Farò del mio meglio per avvalorare la fiducia riposta nella mia persona. E' quanto dichiara il consigliere regionale Mimo Bevacqua all'indomani della sua nomina a capogruppo PD nell'Assemblea Legislativa di Palazzo Campanella. Come infatti aveva annunciato dopo la sua elezione a segretario regionale del Partito, Nicola Irto, ha rimesso il suo mandato di capogruppo e su sua proposta il gruppo PD ha individuato in Bevacqua il suo sostituto. La mia sarà un'azione collegiale, aggiunge Bevacqua, in piena continuità con il mio predecessore e nel solco di un impegno che sostengo da tempo per promuovere una politica fondata su proposte efficaci. Nell'ambito delle istituzioni democratiche il ruolo di una minoranza seria è quello di garantire un controllo costante e una capacità quotidiana di portare al dibattito i temi più vicini ai bisogni dei calabresi e le soluzioni meglio rispondenti alle sfide che il difficile presente ci pone dinanzi. Per questo la nostra sarà un'opposizione rigorosa ma propositiva e costruttiva. Saranno queste, conclude Bevacqua, le direttrici della mia attività e di quella dei colleghi. La prima sezione del Tar Calabria ha annullato la giudicazione della gara di appalto relativa a servizio di controllo passeggeri degli aeroporti La Mezzia Terme, Reggio Calabria e Crutone gestiti dalla SACAL, la società aeroportuale calabrese, a proporre ricorso contro l'assegnazione nel 2021 dell'appalto del valore di circa 10 milioni di euro all'azienda La Torpedine SRL. Era stata la società Sicur Transport. I giudici amministrativi nella Camera di Consiglio dello scorso 8 aprile hanno accolto il ricorso dando ragioni alla società ricorrente e annullando tutti i provvedimenti impugnati. In particolare tra i motivi sollevati nel ricorso della società e accolti dal Tar veniva contestata la modifica della gara d'appalto che inizialmente prevedeva anche il servizio di prelievo e trasporto dei valori di ogni sede aeroportuale calabrese all'istituto bancario indicato. Il rigassificatore per sopperire al venir meno del gas dalla Russia, Maggioia Tauro, deve essere collocato in un'ottica di sviluppo più complessivo della Calabria e del mezzogiorno che prenda al volo altre opportunità che lo scenario mondiale sta offrendo. Santo Biondo, segretario generale della Will Calabrese, invita a scrutare un orizzonte potenzialmente ricco di opportunità per il paese. Il rigassificatore a Gioia Tauro dice apre una prospettiva di sviluppo ma io parto da un ragionamento più lungo. Si parla di Gioia Tauro alla luce dei riflessi di natura geopolitica derivanti dalla crisi in Ucraina ma al di là della retorica di questi anni può essere realmente centrale non solo per la Calabria ma per il paese. Si può tranquillamente dire, sostiene Biondo, che effettivamente Gioia Tauro può rientrare in una visione strategica per l'Italia e può rappresentare una grande opportunità per la Calabria in termini di crescita. Lo ha detto anche il ministro Giovannini, è il ministro dei trasporti quindi ha una competenza specifica però deve dire cosa il governo vuole fare per Gioia Tauro. Sono 1858 i nuovi contagi da Covid in Calabria con un tasso di positività che resta stabile al 20,57%. Cinque le vittime registrate nelle ultime 24 ore con il totale che si aggiorna a 2417. In calo di 13 nel saldo tra ingressi e uscite il numero dei ricoverati in area medica mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva. Corigliano Rossano diventa città. Il titolo onorifico rilasciato quando viene riconosciuta l'importanza storica, artistica, civica o demografica di un comune è stato decretato dal presidente della Repubblica Mattarella accogliendo la proposta del ministro dell'interno, un provvedimento che rende onore e non orgogliscono la comunità e l'amministrazione, si legge in una nota del comune, giunto a coronamento di un inter avviato con delibera del Consiglio Comunale numero 42 in data 27 luglio 2021, è passato il 10 marzo scorso attraverso il via libera del prefetto di Cosenza. Corigliano Rossano attualmente con 74.848 abitanti è frutto della fusione dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, entrambi con origini antichissime e già insegniti del titolo di città. Alla fusione dei due comuni si è giunti nel 2018 attraverso un referendum. Resta in carcere il diciottenne che il 20 marzo scorso guidando senza patente l'auto del padre ha investito a Crutone tre pedoni uccidendo una bambina ucraina di 5 anni, lo ha stabilito il Tribunale delle Riesame di Catanzaro, rigettando la richiesta di domiciliari avanzata agli avvocati Mario Lucente con Roberto Stricagnoli. Autentica impresa quella del Cosenza calcio che batte nel finale il Benevento in una gara fisica e tiratissime e guadagna un po' di ossigeno nella durissima e lunga corsa a salvezza. Gara di grande sofferenza per i lupi rosso-blu di Pierpaolo Bisoli, quella che si recuperava giovedì al San Vito Marulla. Cosenza che dopo aver faticato a resistere alle folate offensive dei Senniti riesce con coraggio a centrare tre punti semplicemente fondamentali per il futuro. All'86esimo caso con una stoccata improvvisa col destro guadagna un corner battuto da destra da Florenzi sugli sviluppi del quale salta perentorio la rete difensivo camporese a giustiziare Paleari. Gli ultimi istanti più il recupero sono interminabili, gli ospiti assaltano con la forza della disperazione mentre i lupi rintuzzano colpo su colpo tentando di mantenerli lontano da Matosevic. Quest'ultimo però rischia tantissimo sull'arcobaleno disegnato da Brignola ma riesce a toccare quanto basta il pallone per deviarlo miracolosamente sulla traversa. Il Cosenza vince e può festeggiare con il proprio pubblico che lo ha spinto fortemente tre punti che valgono oro. La distanza dall'Alessandria torna di un solo punto. Dopo il triplice fischio sul prato del Marulla Bisoli incontenibile e abbraccia i suoi ragazzi che gli hanno regalato una grossa prestazione, questa volta coronata anche dal risultato preziosissimo per rimanere in vita e poter ancora sperare nella salvezza. E' chiaro che oggi i ragazzi hanno disputato una partita secondo me spettacolare sui punti di vista atletica, di palleggio, di profondità, di cupare bene gli spazi. Quindi abbiamo messo in difficoltà una forza importante come il Benevento che lotta per andare in Serie A. E' chiaro che tutte le partite non possono venire bene. Io vorrei che tutte le partite così. Però vedete, credetemi, ci mettiamo l'impegno anche quando l'altra domenica col Monza sembravamo remessivi ma non eravamo. Forse perché avevamo preparato una partita e poi dopo dieci minuti è stata stravolta. Però io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Cioè in tre giorni abbiamo cambiato mentalità completamente. Ho detto bisogna andarle a prendere alti, bisogna andare a attaccare gli spazi, bisogna fraseggiare dietro le linee del loro centrocampo. E' chiaro che io faccio delle scelte, molte volte la zecca e molte volte le sbaglio. Però penso che quando li vedo tutti i giorni, oggi hanno fatto bene Gerbo, Carraro, bisognava aspettarle, i Florenzi bisognava aspettarle. Poi a Cremona ci saranno altri interpreti perché non possiamo giocare a questi ritmi e pensare che questi undici riscenderanno in campo con questi ritmi. Quindi c'è un gruppo che ho detto a loro grazie e orgogliosi di averle allenati. Ci prepariamo per Cremona contro un'altra corrazzata, però non partiamo battuti. Ora ricominciamo a vedere un piccolo spiraglio di luce. Io ho detto che voglio portare ai play-out e cercare di salvare il Cosenza. Questi tre punti mi danno una buona boccata di ossigeno. Penso che siamo sulla strada giusta e adesso vediamo queste ultime quattro partite cosa tiriamo fuori. Il derby pugliese Virtus Francavilla-Foggia si svolgerà senza che i tifosi foggiani possano assistervi. La prefettura di Brindisi ha vietato alla vendita dei tagliandi alla tifoseria foggiana. La decisione tiene conto di quanto accaduto nel corso dell'ultima gara interna del Foggia opposta al Catanzaro, con alcuni teppisti che hanno invaso il campo di gioco per aggredire l'attaccante calabrese Pietro Iemmello, ex di turno, prima che tirasse un calcio di rigore. Intanto il Catanzaro, dopo la vittoria in terra di Puglia, ospita sabato il campo basso. Obiettivo dell'undici di Vivarini, battere i molisani per tornare al secondo posto e blindarlo. Il tecnico riavrà Luca Martinelli ma perde Massimiliano Carlini. Sono 24 i calciatori convocati. La squadra ha risposto molto bene a Foggia, alle sollecitazioni che gli abbiamo dato. Ha dimostrato il suo valore, è una squadra che ha dei valori, l'abbiamo sempre detto. È chiaro che bisogna stare molto sempre concentrati, attenti ad avere quell'intensità, quella cattiveria diagonistica, quel piglio giusto per tirar fuori le prestazioni di alto livello e soprattutto di essere efficaci. Siamo arrivati al dunque del campionato, al momento clou. Quindi di conseguenza questa è una partita contro il campo basso che la posta in palio è molto alta. Per noi dobbiamo assolutamente prenderci quello che meritiamo perché penso che il Catanzaro abbia fatto un campionato di livello alto e quindi nel momento in cui è certo questa cosa bisogna che assolutamente si raccoglie i frutti. Perché al di là delle belle prestazioni fatte, della qualità individuale della squadra, della qualità del gioco che ha espresso, però poi alla fine la cosa che conta sono i risultati. Quindi in questo momento qua c'è bisogno assolutamente di far bene questa partita, di farlo nel modo giusto, di acquisire ancora di più entusiasmo, convinzione dei propri mezzi perché ci serve anche nel futuro. Ci abbiamo Nocchi che chiaramente ha qualche problema come lo ha Fazio e come lo ha Carlini. Niente di particolare però è chiaro che non sono della partita. Fazio l'abbiamo convocato perché in questo momento qua bisogna che tutti quanti sono insieme alla squadra e che capiscano l'importanza di questo risultato e quindi si fa gruppo, si sta insieme per cercare di tirar fuori il meglio da tutti. Grazie a tutti.